Abbiamo fatto un minimo di esperienza, vogliamo passare l'equazione di una retta Questa è l'equazione di una retta in forma parametrica, P è un punto della retta, W è la direzione della retta non la diamo Q-P perché è la direzione della retta, basta che non sia nulla e la vogliamo passare in forma cartesiana? Allora, che cosa succede? Allora, io devo prendere un piano di Y Allora, questo piano sarà della forma AX più BX più CZ e vale P Quindi A, B, C, scalare X, Y, Z e vale P Ma questo deve valere, allora, se la retta deve stare sul piano R contenuta in Y implica che A, B, C, scalare P più T, W deve fare sempre T Ma noi già sappiamo che P è un punto in particolare se metto T uguale a 0 A, B, C, scalare P pure deve fare T Se facciamo adesso la differenza troviamo che A, B, C, scalare W deve fare 0 Vabbè, ci sarebbe T, ma T la porto fuori vale però anche T, metto T uguale a 1 Stavolta però è più o meno lo stesso discorso che ho fatto prima soltanto che l'ho fatto là, l'ho fatto al contrario conoscevo A, B e C e volevo trovare W quindi avevo detto W deve essere ortogonata da B, C la cosa si può vedere pure al contrario se io ho la direzione della retta che stavolta è fissata è la direzione A, B, C del piano che deve essere ortogonata ma non è che c'è un non c'è ridammi il quadernone allora data una retta la posto dal quadernone non c'è un unico piano che la contenga questo piano la contiene questo piano la contiene qualunque piano di qualunque foglio del quadernone la contiene quindi per quale motivo? perché di vettori ortogonali a W ce ne sono tanti ok? allora io come faccio? prima ne trovo uno quindi troviamo un vettore che soddisfa questo e poi ne trovo un altro l'importante è che questi siano indibe allora quale sarà la mia retta R? la mia retta R sarà data dall'insieme di x, y, z tali che a1x più b1y più c1z faccia D messo a sistema con a2x più b2x più c2z deve fare vd e qualunque beh quando ci metto al posto di x, y, z le coordinate di p più t, v, w quando ci metto le coordinate di p qua mi viene D quando ci metto le coordinate di t, v, w qua mi viene 0 faccio la sua e mi viene D stesso scuso se i due vettori a1 più c1 e a2b2 e c2 sono indipendenti cosa vuol dire? vuol dire che i due piani non sono lo stesso piano perché ovviamente se i due piani coincidessero l'intersezione sarebbe ancora un piano non sarebbe l'altro per trovare la costola del quadernone io non devo fare non devo tenere il quadernone chiuso che tutti i piani coincidono devo avere due piani diversi che passino per la costola del quadernone vi faccio l'intersezione e mi viene è chiaro? adesso lo facciamo con il numero prendiamo una retta in R3 che è in forma parametra per esempio prendiamo la retta R 1 meno 1 2 più di volte 2 0 tale che c'è allora posso prendere un punto della retta chi è qui? un punto che appartiene alla retta è questo questo è sicuro appartiene come tutti uguali a 0 quindi posso prendere pi uguale a 1 meno 1 vi dite un altro punto che potremmo che potremmo vedere al posto di questo 2 meno 2 no non 2 meno 1 2 meno 2 4 no 2 meno 2 4 se la seconda ci sta meno 2 e la seconda non può venire meno 2 qua viene sempre meno 1 quindi qual è un altro punto che potremmo? 3 meno 1 3 meno 1 la terza coordinata quando dovremmo fare? 1 3 meno 1 metto t uguale a 1 oppure in 3 meno 1 1 va bene metto t uguale a 2 viene 5 meno 1 0 e così adesso in un punto della retta che significa? fissate una t quello che ottenete fate il prodotto la svolta ok adesso questo chi è? a 2 allora chi può essere per esempio a 1 più 1 c 1 per esempio può essere 1 0 allora se ci metto 1 0 guarda l'altro è il prodotto scalato guarda lì 2 più 0 qua quanto c'è? meno 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 2 2 2 2 più 0 meno 2 adesso ottogano prendiamone un altro a 2 g2 c2 chi può essere? 0 1 0 perché? 0 per 2 fa 0 poi 0 per 1 fa 0 0 per meno 1 e questo è un altro vettore ottimo adesso mi sapete dire quali sono i due piani che passano quali sono i due piani che passano per quella retta allora io dico che 1 è x più 2z uguale e che è x più 2z? questo per x più 0 per x più 2 per z e il punto è qua deve essere uguale no? per 0 passa per l'origi io dico che deve essere uguale a 5 perché è uguale a 5 se passa per la retta deve passare per p se ci metti p quando mi viene? al posto x c'ho 1 al posto y non mi interessa che qua non c'è al posto di z c'ho 2 1 più 2 per 2 2 per 2 fa 4 più 1 fa 5 deve fare 5 quindi x più 2z deve fare 5 e allora se avete capito l'altra qual è? y y uguale a meno 1 meno 1 e y quindi vale meno 1 a meno 1 questi sono due piani che passano per la retta R allora se abbiamo fatto bene se abbiamo fatto bene allora questa è l'equazione quindi cosa abbiamo preso? abbiamo preso una retta corso la del quadernone abbiamo preso due soli del quadernone i fogli ce li siamo scelti noi perché ce ne sono infiniti tra il quadernone il quadernone è è aperto 860 quindi ci sono infiniti i fogli allora se abbiamo fatto bene se prendiamo questa equazione qua questo sistema qua e ritorniamo indietro dobbiamo ritrovare la nostra retta R come si fa a tornare indietro allora y uguale a meno 1 no? allora qua posso scrivere x uguale 5 meno 2 0 y uguale meno 1 no? z uguale z cioè cosa faccio? mi ricavo due delle variabili in funzione della terza e la terza scrivo che è uguale adesso questa roba qui posso scriverla come x i termini noti sono 5 meno 1 e 0 5 meno 1 e 0 e i termini con la z sono meno 2 0 e 0 meno 2 0 meno 2 è 0 0 e z mentre le tendenziali a 0 sono z per meno 2 è 0 ma che devo verificare? devo verificare che questo vettore è proporzionale a questo è proporzionale a questo è proporzionale a più doppio o no? sì è l'opposto non esce sempre uguale può uscire il doppio può uscire la metà può uscire l'opposto ma deve uscire il proporzio perché la direzione è fissata a meno di un coefficiente di proporzionale e questo vettore qua invece chi deve essere? deve essere un punto della rete allora meno 1 si trova perché la seconda cordina è sm-1 per uscire il 0 quando ci devo mettere questo di t? 2 che 2 meno 2 fa 0 ma se metto 2 qua mi viene 1 più 4 che faccio? è uscito il punto di partenza? no è uscito l'altro punto della rete ma chi si è in bosta? cioè non è che quando andiamo a fare passare da diciamo dalla forma parametrica in forma cartesiana e viceversa troviamo perché ci sono dei dati di arbitrarietà allora io ho due piani due fogli che mi danno come intersezione l'acosto del quadernone quando prendo l'acosto del quadernone e voglio due fogli che mi diano come intersezione la stessa cosa io quello mica mi ricordo quali due fogli avevo usato prima non c'è scritto nell'equazione parametrica quindi quando vado a usare due foglie saranno due foglie diverse viceversa quando scrivo quando passo al sistema cartesiano qua non si ricorda che il punto di traslazione era questo la direzione deve per forza trovare quella a meno dei coefficienti di proporzionalità ma il punto di partenza che prendevamo sulla retta il vettore di traslazione l'equazione del sistema cartesiano non ci sta scritto qua quindi a seconda di come lo vado a risolvere potrei ottenere questo punto come un altro punto chiaro? quindi qua ci vedete praticamente tutto il riassunto di come è fatta l'equazione di un piano in forma cartesiana o in forma parametrica di una retta in forma cartesiana o in forma parametrica in forma parametrica è un vettore di traslazione più un altro vettore per uno strano per portarla in forma cartesiana ci dobbiamo trovare due direzioni rettocolare a questa che mi rappresentano due possibili piani che con me le due direzioni devono essere indipendenti per farli indipendenti cosa ho fatto? ho fissato uno zero qua ho fissato zero uno qua il terzo coefficiente non lo ricavavo ma potevo fissare che ne so uno 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 meno uno basta che le due direzioni fossero sicuramente indipendenti cioè dovevo fissare due coefficienti in maniera tale che non fossero proporzionale il terzo lo ricavavo in ogni caso bene una volta fatto questo ricavati a b e c allora che cosa so? non posso scrivere ax più dx più c0 uguale a 0 perché che ne so se il piano passa per l'origine il piano so che passa per b allora cosa devo fare? ci metto le coordinate di p a per la prima coordinata di p più b per la seconda coordinata di p più c per la terza coordinata di p e vedi il risultato ciò che lo metto in questo caso qua viene uno per uno più zero per meno uno più due per due fa c nel secondo caso qua viene uno per meno uno fa e quindi questi sono due piani sono messi in mania tale che passino per p e che il vettore ortogonale al piano fosse ortogonale alla retta questo che significa che la retta deve stare sul piano quindi la retta partita a questo piano partita a questo piano i due piani hanno due vettori ortogonali dipendenti quindi quando arrivate a intersecare l'intersezione mi dà un'unica retta e la retta è il problema viceversa se ho la retta data da questo sistema cartesiano cosa faccio? mi devo risolvere il sistema in funzione di una delle tre variabili cioè significa che devo scrivere per esempio qua l'abbiamo risolto in funzione di z x uguale x di z y uguale x di z z uguale z perché una volta ricavate le altre due in funzione di z completo il sistema con questa equazione che è un'identità z uguale z a questo punto questo sistema si può vedere come un'uguaglianza vettoriale x y z uguale e prima cosa metto i termini che sono meno di 5 meno uno z poi metto z per gli altri coefficienti che stanno davanti a z nella x che sono meno due zero e questa deve essere l'equazione parametrica qua è molto più facile ho trovato l'equazione parametrica però al di là di come si fa adesso potete prendere questo esercizio e replicarlo una due dieci quando siete arrivati a 20 volte dovreste averlo capito ok però quali sono i punti fondamentali i punti fondamentali che se voglio descrivere una letta in R3 c'ho un parametro più il vettore di traslazione il che significa che le equazioni cartesiane sono due indipendenti perché due equazioni a sistema perché la retta c'ha dimensione 1 e scende da 3 a 1 ci vogliono due equazioni una di un piano una di un altro piano faccio l'intersezione trovo la retta i piani non devono essere paralleli perché se sono paralleli o l'intersezione è vuota o l'intersezione è ancora un piano quindi in ogni caso non determinano la retta quindi che vuol dire vuol dire che questi due coefficienti li devo scegliere in dipe e poi devo far passare i piani per il punto due ce ne voglio perché 3 meno 1 fa 2 mentre in forma parametrica ci vuole un parametro perché 0 più 1 fa 1 invece quando avevamo l'equazione di un piano in forma parametrica ne bastava una perché 3 meno 1 fa 2 se io adesso tolgo una di queste equazioni quella che mi rimane qua è un piano ma se volessi descrivere quel piano come si potrebbe fare allora in quel caso non ho la retta traslazione più movimenti sulla retta ma avrò un piano allora mi posso muovere nella direzione di questa retta o di un'altra retta che sta sul piano ci vogliono due direzioni indipendenti perché per generare quel piano o almeno quello che passa per l'origine parale da quella ci vorranno due vettori perché due vettori indipendenti perché c'è la dimensione 2 quindi ho una prima qua c'ho P qua c'ho un doppio qua c'ho V devo fare P più l'ambra mu doppio più mu oppure P più l'ambra mu più mu però per ottenere il piano quindi è tutto al contrario in quel caso ho un'equazione cartesiana ma quando passo in forma parametrica i parametri sono due un'equazione cartesiana perché 3 meno 1 fa 2 due parametri perché 0 più 2 fa 2 è chiaro non c'è nulla di complicato diciamo che in tutto questo discorso ci ha aiutato un attimo il discorso del prodotto scalare quindi dell'ortoconalità ci ha aiutato a chiarire certe cose ok adesso facciamo un paio di esercizi esercizi grazie 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 allora cosa abbiamo fatto in rv io ho dato una retta in equazione parametrica qua vi ho dato un punto fuori dalla retta sicuramente non sarà sulla retta perché tutti i punti che saranno sulla retta sono la prima coordinata bene invece quel punto c'è la prima coordinata 6 quindi abbiamo una retta e un punto fuori di es geometricamente ci deve stare un unico piano che li contiene che li contiene che voi prendete la retta costo al quadernone ci girate attorno a tutti i fogli che passano al quadernone uno di questi fogli conterrà il punto allora l'esercizio consiste nel determinare l'equazione cartesiana del piano di greco che contiene la retta e che contiene il punto come si fa allora ci sono tanti modi di risolvere queste esercizio un primo modo facile facile magari come conti forse non è neanche più facile però come concettualmente è semplice mi sapreste scrivere l'equazione il piano lo chiamiamo di greco mi sapreste scrivere l'equazione parametrica di di greco io dico di greco è uguale a 1 1 0 più lambda volte 0 1 2 più mu volte questo non lo dovete dire voi perché dico questo i primi ci devono stare perché la retta deve stare sul piano mi basta semplicemente trovare un'altra direzione che stia sul piano qual'è un'altra direzione che sta sul piano? no no perché no perché se ci metti il punto P tu per far uscire P qua devi mettere mu uguale a 1 lambda uguale a 0 ma questo qua non lo puoi togliere quindi che ci devo mettere? no? P ma P meno questo quindi ci devo mettere 5 meno 3 3 perché se metto lambda uguale a 0 mu uguale a 1 1 più 5 fa 6 1 meno 3 fa meno 2 0 più 3 fa 3 ci siamo fino a qui cioè questa era la retta E qua era chiamiamo il punto della retta lo chiamo Q poi la direzione la prima direzione la chiamo Q chi è la seconda direzione? questa è P questa è Q la seconda direzione è P meno Q quando fate le direzioni e avete un punto di partenza dovete sempre sottrarre il punto di partenza è chiaro o no? ok quindi questo è il piano in forma parametrica ma se voglio fare l'equazione cartesiana come devo fare? abbiamo detto mi devo prendere due vettori 8 con la a questi scusate un vettore 8 con la tutti e due allora come il vettore lo chiamo ABC lo devo fare B più 2C uguale a 0 perché ABC deve sottolineare a questi quindi 0 per A più 1 per B più 2 per C deve fare 0 e l'altra equazione è quale? 5A allora come si risolvono queste equazioni? B uguale a meno 2C se sostituisce sotto viene 5A più 6C più 3C uguale a 0 perché meno 2 per meno 3 per più 6 quindi ottengo 5A uguale meno 9C quindi B uguale quindi lo rispito B uguale 2C 5A A uguale meno 9C meno 9C 5A uguale meno 9C B uguale meno 2C no meno 2C allora qual è la soluzione? per esempio una soluzione ce ne stanno infiniti perché C adesso la posso scegliere come mi pare qual è? ecco c'è un modo più conveniente degli altri di scegliere C qual è? scegliere C uguale a meno 5 5 va bene ancora meglio se ci metti meno 9C uguale a modi meno 5 al posto di C C B quanto viene? A quanto viene? 9 no se scelgo C diverso più piccolo allora sicuramente i numeri mi vengono frazionali e sicuramente peggio se scelgo C uguale a 10 o a meno 10 e moltiplico tutto inutile meno 2 e ottengo numeri più grossi che non mi piace quindi 9 10 meno 5 va bene andiamo a vedere 9 più 10 meno 10 fa 0 scusate 0 più 10 meno 10 fa 0 9 per 5 45 meno 30 meno 15 fa 0 allora qual è l'equazione? l'equazione è 9X più 10X meno 5Z meno 5Z uguale quanto? quadro del suo quadro del suo quadro del suo quando abbiamo fatto questo stiamo determinando stiamo determinando non il piano di greco ma il piano se ci metto 0 mettiamo il piano passante per l'origine ma io che cosa so? il piano deve passare per il P ci deve passare allora se ci metto 6 6 per 9 54 meno 2 per 10 fa 20 3 per meno 5 fa meno 15 54 meno 20 fa 34 meno 15 allora andiamo a vedere come si fa a controllare si mettono le coordinate di P là dentro e si vede se funziona vabbè ci abbiamo messo apposta se non abbiamo sbagliato funziona adesso ci si mettono le coordinate ci si mettono le coordinate di 1 1 0 e bisogna che l'equazione funzioni 1 1 0 9 più 10 più 0 va diciamo adesso ci metto le coordinate 0 1 2 0 più 10 meno 10 fa 0 cioè funziona ma non con questa equazione con quella omogenea perché la direzione della retta deve stare sul piano il che vuol dire che deve essere ortogonale a questo vettore equale quindi quando la vado a mettere al posto di la direzione della retta la vado a mettere al posto delle coordinate x, y, 0 deve soddisfare non quell'equazione ma quella omogenea S3 fine questo è un modo ok ne possiamo fare un altro inventatevi qualche altro modo allora prendete questo stesso esercizio inventatevi qualche altro modo l'importante è che il modo corrisponde a un ragionamento poi ovviamente avete i dati potete controllare adesso a vedere la retta R uguale 2, 1, meno 1 più lambda volte 1, meno 1, meno 1 adesso dovete prendere P ottogonale a R di greco passante per 1, 1, meno 1 questo è facilissimo scrive in due secondi scrive in due secondi il piano è x più x meno 3, 0 uguale perché allora pi greco ortogonale a R che significa che deve essere ortogonale a questa direzione qua questo non conta è soltanto un punto che mi sposta la retta in giù in giù la direzione rimane sempre la stessa ortogonale a quella direzione significa che quel vettore 1 scusate 1 meno 1 più 1 meno 3 è giusto cioè invece dipende questo come il vettore ortogonale e questo 1, meno 1, 1 deve essere il vettore ortogonale a piana il vettore ortogonale a piana è ABC quindi abbiamo x, meno x e più x ma io so che passa per questo punto qua quindi se ci metto 1 per 1 meno 1 per 1 meno 1 più 0 cioè meno 3 lo sostituisco viene 1 meno 1 meno 3 e fa meno 3 in questo modo basta per 1 1 1 meno 3 quindi il piano è giusto chiaro? quindi basta ragionare poi ovviamente chiaramente quando uno va a fare il conto esplicitamente può sbagliare ma se uno controlla poi ragionamento allora facciamo a un esempio troviamo dei punti che stanno su questo piano trovate due punti qualsiasi ditemi le prime due ordinari che mi ricavo la terra a caso la x mettiamo? 10 la x quando ci mettiamo? 6 allora 10 meno 7 fa 6 se a z ci metto meno 6 stiamo sul piano questo è un punto questo è un punto del piano 10 meno 7 meno 6 fa 10 prendiamo un altro approcchiare gli 8 23 la x ci mettiamo 15 23 meno 15 fa 8 per far uscire meno 13 devo mettere meno 11 adesso questi sono vi ricordate come era fatto il piano doveva essere ortogonale alla retta r tutti questi angoli sono tutti r ok questo era r questo era p adesso cosa ho preso? ho preso due punti qualunque p e questo sul piano adesso facciamo u meno p quanto fa u meno p? 13 8 meno 5 giusto? questo è un vettore questo qua la direzione di r la chiamiamo v2 secondo voi come sono voi v2? ma vengo per niente allora v sta sul piano se prendi il parallelo allora sono perpendicolari perché questo sta sul piano se sta sul piano deve essere perpendicolare adesso questo non è anche se vi ricordate se l'avete fatto l'avete vedo l'esprende è perpendicolare qualunque vettore che sta sul piano è perpendicolare possiamo controllare e facciamo questo scalato 13 è 1 meno 8 meno 5 fa? adesso cambiamo non siete convinti cambiate uno di questi qua mettate voi le quale ci vogliamo 1 poi meno 3 quindi 1 più 3 fa 4 arrivare a meno 3 ci vuole meno 7 adesso faccio la differenza faccio al contrario perché mi piace di più 9 10 1 se no facevo al contrario tanto il prodotto scalpa sempre deve fare 0 quindi vado l'opposto allora 9 meno 10 più lo vedete hai preso due punti stai su quel piano fa la differenza deve essere sempre molto buona la differenza non c'è possibilità che accada la differenza e qua ci possiamo sbizzarrire come ci pare ok quindi per esempio possiamo fare ecco posso prendere un piano un punto una retta per questo punto quando ce ne stanno parallele a questo piano quando ce ne stanno tante prendete il piano parallelo alzate questo piano passerà per questo punto 1 e tutte le rette che stanno qua sono tutte parallele a questo piano guarda e tra queste tutte le rette prendete quelle otto con aria a un altro piano allora quindi prendiamo per esempio il piano 3x più 2y meno z uguale 1 questo è piccolo allora sia r la retta per 1 meno 3 più 4 allora mettiamo sigma un altro piano che è 2x meno 5y più 6 uguale 3 allora r la dovete prendere parallela a pi greco e r ottogonale su ok fare gli esercizi e poi mi dite ok ottogonale poi l'onelta E che sia parallela a pi greco ottogonale al sigma e passo per questo punto qua e passo a questo punto a questo punto